È un omaggio che abbiamo ricevuto da AnciTel, quindi AnciNazionale, per gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto con la raccolta differenziata. E onestamente è una grande soddisfazione perché siamo il primo comune in Italia tra i 50 e i 100 mila abitanti che hanno avuto il miglior risultato. Quindi è una grande soddisfazione, ma soprattutto abbiamo ottenuto questi risultati con sei anni d'anticipo in base all'agenda indicata dall'Unione Europea. Per cui è una bella soddisfazione. Anche oggi l'assessore Mascarini è andato a tirare un nuovo riconoscimento che si unisce con l'Oscar per la trasparenza. Solo sei comuni in Italia l'hanno avuto e quindi è una dimostrazione di un'efficacia e di un'efficienza che questo comune sta dimostrando in questa fase amministrativa.